Traffico di droga gestito come un'impresa, intimidazioni per rimuovere e togliere di mezzo ogni tipo di ostacolo che si frappone alla realizzazione degli affari e poi ostentazione del potere come i fuochi d'artificio esplosi nella notte per festeggiare chi esce dal carcere. Sono questi i tratti distintivi della mafia di Rancitelli, si chiama proprio così sugli i tratti giudiziari, mafia di Rancitelli, ne parliamo in un'altra puntata di 31 minuti di Aspetto Gioedì ore 22.30 su Reteo.